Ezekiel era una persona... andavano così i miei colleghi dipinti come un eroe e un martire, ma in realtà lui viveva secondo quelli che erano i suoi principi. Noi avevamo abbastanza confidenza, è venuto diverse volte, tante volte a casa mia, mia madre lo adorava per esempio, anche se diceva che eravamo due estremisti. Ma parlavamo tantissimo di politica, di problemi sociali, queste cose qua, e spesso eravamo d'accordo, altre qualche volta no. Si è provato quando ha saputo che era stato ucciso? Una delle cose che mi ricordo e che ho pensato è che poteva succedere, perché col carattere che lui aveva non si sarebbe tirato indietro. Credo che fosse una persona che viveva per i suoi principi, capisce? Ed sono persone che... io ne ho conosciute qualcuno, uno e lui, un'altra, 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 due forse persone così. E sono... che hanno una caratteristica, sono persone che non si... non si... non si... non è che non si piegano, non si preoccupano delle... di fare qualche cosa che può essere pericoloso perché... Non hanno paura? No, ne hanno di paura, però... vincono in qualche modo. Adesso lei è ateo, quindi? Io sì. Lo stimo moltissimo, ne ho parlato alle mie figlie, moltissimo, e ne ho parlate a tutte le persone che conosco. Io cerco di mantenere un ricordo di questa persona perché mi reputo non per come è morto, ma perché come era un uomo fortunato perché l'ho conosciuto. Capisce cosa intendo dire? È un ricordo di un ragazzo che era come noi, ma quando si trattava di parlare di problemi sociali, di problemi legati alla gente, anche di politica, era uno che aveva una marcia di noi. Era un compagno normale che scherzava, giocava, copiava, passava i compiti come tutti gli altri. Però cosa avete pensato quando avete saputo della sua morte? Quando lui è morto, oltre al dispiacere, ho provato anche la sensazione che fosse parte della sua missione, della sua vita, della sua voglia di fare. Non si sarebbe mai tirato indietro nel momento in cui gli si chiedeva di difendere qualcuno che aveva bisogno. Quindi il suo carattere era quello e lui andava fino in fondo nelle cose, se ci credeva le faceva. Quindi non è stata una sorpresa, faceva parte della sua vita e di quello che lui aveva scelto, lasciando tutto e dedicandosi a questo. L'ha vissuta fino in fondo.